Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Prima di tutto ragazzi vi volevo ricordare due cose importanti. La prima è che se andate nei sottotitoli potete selezionare la vostra lingua e ce ne sono di più perché come avevamo detto stiamo cercando di accontentare un po' tutti e nel caso in cui non l'avete ancora fatto cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella in modo da non perdervi nessuno ma proprio nessuno dei nostri video. Quest'oggi penultimo giorno per me di vacanza mettiamola così perché da sabato ricomincerò come vi avevo già accennato a lavorare. Speravo di poter andare in spiaggia a godermi una bella giornata di sole invece? E invece no. Abbiamo cantato vittoria troppo presto ieri facendo anche un po' gli sbruffoni. Oggi siamo stati puniti. Siamo stati puniti severamente. Temperature scese di 7 gradi. Ci sono adesso credo sui 19-20 gradi. C'è un vento freddo che sembra di essere in Siberia. Piove ma fortunatamente il tempo ci ha lasciato questi 10 minuti liberi con mezzo sole per potervi fare il video. Quindi ragazzi oggi niente. Passeggiata per sicurezza perché non avevamo voglia di prenderci la pioggia. Siamo in macchina e visto che dobbiamo andare fino a 5 minuti perché non lo sapesse. Facciamo intanto come potete vedere inizia a piovere. quindi niente noi ci sbrighiamo. Devo andare a Tias perché purtroppo ho sfondato dopo un'ora e mezza di lavoro una scala da 130 euro e quindi non mi sono fatto niente. Quindi mi hanno chiamato per andare a ridarmi i soldi indietro. Quindi vi facciamo tutta una bella panoramica di Porto del Carmen. Anche zone che nei nostri video non avete mai visto. Fino ad arrivare nella stupenda cittadina che fa municipio che è Tias. Li portiamo un po' con noi. Li portiamo un po' con noi a spasso. Quindi adesso aspettiamo 5 minuti perché questa è una nuvola che sta passando. Poi in teoria dovrebbe fare. Si si apre. Mezzo sole. Quindi aspettiamo 5 minuti e partiamo con il video. Ottimo mezzo sole sta per uscire quindi noi accendiamo la macchina e incominciamo con il nostro tour. Quindi ragazzi buona visione. gruppo carico per minuti e revisione a cura di QTSS. Grazie a tutti. 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 Bene. Il sole, il sole, il sole, il mare e oggi purtroppo sarebbe uno scenario un po' triste. Un po' triste.